L'incubatore di imprese Sticca è stato presente a Smao, la principale fiera italiana dedicata all'innovazione per le imprese, le start-up, gli enti pubblici e abilitatori. L'evento organizzato e promosso in collaborazione con Regione Campania, svoltasi lo scorso 14 e 15 dicembre alla mostra d'Oltremare, ha visto la partecipazione infatti della realtà torrese per presentare al tavolo degli innovatori due progetti approvati da Invitalia, in partenariato con il Centro di Artigianato Digitale di Cava dei Tirreni, Confcommercio Campania e CNA Salerno. Il tavolo, ha dichiarato Giuliana Esposito, responsabile Sticca, rappresenta un'occasione di aggiornamento delle progettualità in corso tra gli abilitatori che operano sull'intero territorio campano e i referenti di corporate nazionali per favorire la creazione di nuove progettualità sui temi dell'innovation.